Musica Chiudi gli occhi Perché devo chiudere lì? Fallo! Sì sono chiusi Di più? Sì signor Non guardare No sono chiusi Rico Apri l'hunger Fuoco nell'apertura Ormastica Convinto Assapora E allora Dite male vero? C'è sempre il piano B Ehm E' meglio della bistecca Mi piace Mi piace Al micio piace il pesce Diceva su uscire l'originale Salutino Ciao Leggere attentamente le avvertenze Non somministrare i bambini al di sopra dei 99 anni In medicinale potrebbe provocare effetti collaterali indesiderati anche gravi Quali alle gai e spensinatezza In soggetti particolarmente sensibili risate a crepa pelle Se i sintomi persistono Consultare il teatro otto Grazie a tutti